5 una bella sorpresa per voi ma per tutti noi perché la una delle nostre porta bandiera diciamo sofia goge alla quarta discesa quarta vittoria consecutiva rientreremo dalla pubblicità con due brani e sarà nostra ospite al telefono gamasca e ci vuole bene perché tutte le volte vuole parlare con noi con questa è strana e poi dobbiamo complimentarci ragazzi quarta vittoria consecutiva dai ma tu quante quante discese fai io faccio delle piccate sono sempre insetti vai 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 a tra poco allora state con noi 10 milioni 448 mila italiani ascoltano ogni giorno rtl 125 radio freccia e radio z ho visto il quadro della mia vita sembra l'urlo di muro